Ciao e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube, io sono Federico Murero e oggi sono venuto qui da Fari e Sport per parlare delle scarpe che abbiamo provato Siamo qui per parlare un po' di quello che è stato l'evento di qualche settimana fa che abbiamo fatto qui, giusto? Esattamente, è stato un test prodotto di ASICS, diciamo che facciamo diverse tra queste attività è molto interessante soprattutto per il cliente, l'utente poter provare gratuitamente qui la scarpa siamo vicini al parco quindi poi ci si butta anche magari nello sterrato su Cavriga a fare qualche ripetuta a sentire bene la scarpa e c'erano diversi prodotti quindi avevamo Nova Blast 4 che era la novità a tre un po' più dinamica potremmo dire, Nimbus Cumulus quindi come a tre massima ammortizzazione di prova e anche come qualche atleta elite, qualche appassionato ha provato la piastra in carbonio Devo dire che l'evento è stato molto utile, se volete potete andare a vedere ad esempio l'evento che abbiamo fatto l'anno scorso invece con Sauconi e capite un po' di cosa si tratta sono veramente interessanti questi eventi perché si può provare la scarpa come ha detto Felipe, avere la possibilità poi qua sul parco di Monza di testare sul terreno proprio la scarpa cambia la sensazione che poi si ha devo dire che il feeling che io ho personalmente con le scarpe anche semplicemente indossandole la prima volta capisco se va bene o non va bene la scarpa per me per l'utilizzo che dovrò andare a fare però ovviamente avere il riscontro sul campo andando a correre sul parco, sullo sterrato facendo un po' di trail running, qualche allungo sull'asfalto ovviamente certifica le sensazioni che si hanno a primo impatto eccole qua, sono comparse magicamente e andiamo a parlare insomma delle scarpe di quelle che sono state le mie sensazioni personali per poi andare nel tecnico con Felipe allora al test avevo provato subito le Nova Blast che sono delle scarpe reattive e abbiamo fatto il test sempre sullo stesso tipo di terreno siamo andati su una strada bianca per poi fare un po' di trail running con delle curve anche abbastanza secche quindi si vedeva bene la reattività della scarpa e come accomodava il terreno siamo andati lungo l'ambro poi abbiamo girato a sinistra, cavriga, quindi asfalto e poi siamo tornati indietro c'è stato anche un po' di asfalto per capire come era la scarpa in sé e devo dire che mi sono trovato molto bene perché è una scarpa reattiva però comunque morbida quindi secondo me è una scarpa comoda per quello che è un medio ma anche qualche ripetuta veloce tu cosa dici? sicuramente infatti parlerei di una scarpa da progressivo o comunque per una corsa che corre in modo già abbastanza leggero e un po' spinto non è mai il caso di parlare di, nello specifico, di passi o di ritmi perché è un po' forviante, un po' non è il massimo sì, è un passo oggettivo esattamente è una scarpa come puoi vedere con un piatto suola assottigliato soprattutto nel mesopiede e anche la suola stessa è in qualche modo scavata, alleggerita per dare un peso minore alla scarpa con un'ottima reattività dovuta anche voluta anche dalla vascularità rispetto poi appunto alle altre che sono basculanti sì sia la Cumulus che la Nimbus però più pesanti, più strutturate e anche con un piatto suola più importante in questa scarpa troviamo solo FF Blast Plus che è il loro materiale di ammortizzazione più reattivo in realtà quindi diciamo che siamo già più sbilanciati verso la reattività rispetto che all'ammortizzazione è proprio anche una tipologia di corsa c'è chi corre diciamo rimbalzando bene sull'avampiede anche nel lento o anche in un medio per questo magari una scarpa come la massima ammortizzazione il top di gamma col Pure Gel potrebbe risultare anche troppo tra virgolette sì e poi per quanto riguarda le Cumulus e le Gel Nimbus come detto abbiamo fatto lo stesso percorso e appena indossate le Cumulus le ho subito sentite come delle scarpe da tennista io le ho definite un po' così e anche il ragazzo di ASICS poi mi ha detto che in effetti sono state progettate per essere diciamo più stabili, un po' più secche che sono anche quello che alcuni runner vogliono io in particolare diciamo non comprerei questo tipo di scarpa perché non calza insomma le mie aspettative da una scarpa da lento devo dire che però è molto reattiva e stabile perché nelle fasi di cambio di direzione era veramente piantata a terra rispetto alle altre due e questo può essere utile se qualcuno fa dei percorsi trail running diciamo non estremi ovviamente però con parecchie curve e questo può essere insomma adatto a lui per le sue corse mentre la Gel Nimbus diciamo è una poltrona e quindi è comodissima io la scelgo perché è la scarpa perfetta per le corse lunghe e per stare comodi tutte le corse quotidiane che si fanno ai ritmi più tranquilli infatti è una scarpa con una tomaia a differenza delle altre completamente elasticizzata anche nella linguetta quindi abbiamo un fitting una calzata perfetta e anche la linguetta stessa dietro per calzare la scarpa elasticizzata potrebbe essere utile Fede magari sto pensando anche per qualche Ironman per qualche gara di triatron quindi con transizione però lunga quindi dove ci servirà tutta l'ammortizzazione di cui avremo bisogno Sì, anche secondo me può aver senso perché ricordatevi che soprattutto nelle lunghe distanze bisogna essere comodi perché se non si è professionisti se non si cerca la performance pura bisogna cercare di portare a termine la gara evitando di farsi male e in questo caso una scarpa così comoda potrebbe essere utile per l'obiettivo Passando invece poi alle peris di cui andremo a parlare un po' più nel dettaglio in un altro video vi posso assicurare che sono delle scarpe veramente veloci e sono anche ancora più veloci rispetto al modello precedente il che può sembrare incredibile perché già le Metaspeed Sky che avevo erano molto molto veloci però sono riusciti a fare qualcosa che insomma è uno step successivo Si sono superati Sì Questa è una scarpa per chi vuole togliere il limitatore di velocità sono scarpe performanti sono due varianti particolari simili ma non identiche che poi appunto potremo vederlo magari più nello specifico Fede ha provato la Metaspeed Sky nella colorazione nella edizione precedente e da poco la Edge quindi la variante però nell'edizione ultima nuovissima anche colorazione ci auguriamo e gli auguriamo di Parigi appunto Per concludere il video volevo fare una piccola comparazione tra la Gel Nimbus che adesso andrà a utilizzare e che ha utilizzato nel modello 25 rispetto alla Brooks Glycerin 21 che è una scarpa che adesso Fel andrà a prendere che diciamo può essere la corrispettiva di Brooks giusto? Sì sicuramente è l'equivalente per Brooks alla Nimbus quindi stiamo parlando di due top di gamma anche a livello di caratteristiche tecniche possono in qualche modo somigliarsi entrambe presentano diciamo il massimo delle tecnologie delle aziende in quanto a calzata quindi a tomaia e ad ammortizzazione o a piattosuola quindi l'ampiezza il peso ingrammatura il drop quindi l'indice di protezione anche è simile paragonabile poi le differenze chiaramente come sempre sono in funzione alla forma del piede alla sensibilità e anche alle sensazioni personali del corridore dell'utente per esempio che cosa hai sentito Fede? esatto io dato che ho le Glycerin da più di 200 km posso raccontarvele insomma nel dettaglio sono delle scarpe che per come corro io sono un po' secche le ho sentite ammortizzanti perché indubbiamente fanno la loro funzione nei lenti però sono delle scarpe che secondo me avrebbero bisogno di una ulteriore mescola più morbida non lo so qualcosa che riesca a farle diventare più morbide perché per quello che riguarda me considero Brooks come un altissimo marchio che riesce a fare delle scarpe che sono indistruttibili perché anche dopo tanti chilometri la tomaia è veramente illesa però c'è questa cosa che loro hanno presentato come la scarpa più morbida di sempre e purtroppo io avendo provato le gel Nimbus devo dire che non erano per me le scarpe più comode di sempre perché appunto le gel Nimbus secondo me erano più comode però sono magari marchi diversi che puntano anche a runner diversi e dunque la differenziazione è anche legata a questo penso da adesso in poi userò le gel Nimbus in accoppiata con le Glycerin per i miei lenti e in passato invece ho usato fino alla stagione scorsa appena passata il modello precedente di gel Nimbus le 25 e rispetto a quelle le nuove gel Nimbus sono ancora più ammortizzanti devo dire che sono però cambiate perché le gel Nimbus vecchie sembrava di stare un po' su un barcone erano veramente grandi e ammortizzavano bene che per me era perfetto però alcuni runner a detta di Asics non erano molto contenti di questo feeling e dunque hanno cercato di ridurre un po' questa sensazione andando a cercare un po' più anche di reattività e per quanto riguarda questo video è tutto ringrazio Felipe di Affari e Sport ciao ragazzi grazie a te Fede grazie a voi e noi ci vediamo a un prossimo video se avete delle domande sulle scarpe da lento da lungo o da medio o veloce insomma scrivetele qua sotto e noi in un prossimo video vi risponderemo come sempre buona l'inamita ciao ciao